Buongiorno carissimi, buongiorno fratelli e sorelle, grande famiglia. Oggi vi faccio subito una domanda. Volete essere santi? Perché qui abbiamo un grosso rischio. Pensiamo di essere santi. Pensiamo di essere giusti. Pensiamo di essere a posto. E che cos'è che ci fa pensare di essere a posto? Beh, perché la mattina mi alzo, seguo il video del buongiorno di Don Francesco, poi dico il mio rosario, poi vado a messa, poi faccio qualche opera buona. E questo significa essere a posto? Questo è solo lo 0,1% della santità. E allora vi rifaccio la domanda. Vuoi essere santo? Allora voglio darti qualche piccolo spunto di riflessione. Intanto, la santità è tutto lo scopo della nostra vita. Noi viviamo su questa terra per essere santi in cielo. E il motivo per cui siamo stati chiamati? Siate santi, come io il Signore vostro Dio sono santo. Ci viene detto nel libro del Levitico. E poi da Gesù nel Vangelo viene ripreso. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. La santità è ciò che il Signore si aspetta da tutti noi. Chiediamoci allora, chi sono i santi e come dovremmo essere noi? Intanto voglio dire una cosa, che i santi non sono una rarità e non sono pochi. Anzi, ci sono uomini e donne che lungo questi duemila anni di storia della salvezza hanno dato interamente la vita a Gesù. Hanno rinnegato loro stessi, lo hanno seguito, lo hanno amato. E' il Paradiso. Ci sono tanti santi. Il libro dell'Apocalisse ci testimonia che erano una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Alleluia! Questo è speranza. Allora abbiamo tanti amici da imitare, tanti amici che ci hanno preceduto. Ma una cosa va detta ancora. Non si nasce santi. Santi si diventa. E non si va automaticamente in Paradiso perché siamo nati e siamo stati battezzati. Tutti i giorni dobbiamo vivere da battezzati, da cristiani, da credenti. Da ogni nostra debolezza, e questo è una verità bellissima, può germogliare un seme di santità, un germe di santità. Perché la santità non è per gli eroi, ma per i deboli. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Avvolti diversi la santità e strade diverse. Faccio un piccolo esempio. La santità di Teresa di Lissier, che viveva in pochi metri quadrati nel suo manastero, era diversa dalla santità di San Paolo, che percorse il mondo intero per annunciare il Vangelo. Eppure tutte e due sono santi. La santità di San Pio da Pietrilcina, che visse per 50 anni nel convento di San Giovanni Rotondo, è diversa dalla santità di San Francesco Saverio, che arrivò fino in Cina per evangelizzare. Eppure tutte e due sono santi. La santità di Santa Maria Goretti, che difese la dignità della vita e dell'amore vero, è diversa dalla santità di Madre Teresa di Calcutta, che fino all'età di 87 anni si è consumata nell'opera di misericordia e di carità. Eppure tutte e due sono santi. Però, se le strade sono diverse e le figure sono diverse, c'è un solo e unico punto d'incontro, una sola sorgente. E qual è? Ce lo facciamo dire da una santa che ho già citato, Santa Teresa di Lisier. Lei viveva nel monastero, quindi una vita di orazione, ma voleva, ecco, diventare missionaria. Voleva essere come tanti altri santi e impegnarsi ancora di più per Gesù. E viveva tormentata da questo. Ma il Signore stesso risponde a questo tormento. E mentre legge le lettere di San Paolo, trova la pace, no? La lettera di San Paolo bellissima, che parla dell'unico corpo e delle tante membra. Ecco, tutte importanti, tutte fondamentali, l'uno all'altro. E così, ecco, questo è il punto di partenza della santità. La carità, vivere il proprio carisma, restando nel proprio specifico. Perché io sono io, l'altro è l'altro. E ognuno di noi, con il proprio carisma, fa bello l'unico corpo di Cristo. E leggendo l'inno alla carità di San Paolo, dice, La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Gesù, amore mio, la mia vocazione l'ho trovata. La mia vocazione è l'amore. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. E allora, una mamma può diventare santa, se rimane nella sua missione di madre secondo il cuore di Gesù. Tutti i giorni, è così un padre, è così un medico. Pensate a San Giuseppe Moscati. Ogni giorno era medico, amando tutti, soprattutto gli ultimi, coloro che non potevano avere nulla. È così un prete. Quanti sacerdoti santi hanno vissuto il loro ministero. E allora tu vuoi essere santo? Ama, le diceva Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Vuoi essere santo? Rimani nel tuo specifico ministero. E fatti santo. Fatti grande santo. Perché la grazia di Dio non ti manca. E ora preghiamo. Perché ci possiamo decidere per la santità e perché il Signore ci aiuti nelle prove per non cadere dalla santità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti. Vi lascio con un abbaccio fraterno e un bacio. Alle 18 e 20, per chi lo desidera, per chi c'è, noi preghiamo il Santo Rosario come sempre in diretta sul canale YouTube.